Sulla vicenda degli asili nido, l'intervento di Fabio Ligonzo, segretario aziendale per CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi, che dice perdere i fondi PNRR, asili nido, significa rinunciare al futuro del territorio. Per la CISL questa opportunità rappresenta una scelta strategica fondamentale e mancato, come sempre il confronto chiude Ligonzo, in quanto il sindacato pone estrema attenzione e priorità. Ieri il comunicato con il quale l'amministrazione comunale scrive il comune di Taranto ha già aderito in maniera convinta e corposa ai finanziamenti PNRR già destinati per interventi presso le sedi che ospitano asili. A supporto di tale affermazione va evidenziato che sono in corso gli interventi per la rifunzionalizzazione di tre nuove strutture asilari già esistenti e riferite al plesso Monaco a Talsano, al plesso pastore al quartiere Paolo VI, che garantiranno, si scrive, una volta entrate in funzione ulteriori posti, fino a un massimo di 120 per bambini della fascia di età compresa tra 0 e 3 anni. E ancora, nella nuova area mercatale del quartiere Paolo VI, ricadente dei finanziamenti Pinqua con fondi PNRR, un'opera che consentirà di far salire a un totale di 180 i nuovi posti a disposizione delle famiglie di Taranto. Gli asili in oggetto diventeranno operativi entro il 2025, anche, scrive il comune, se ci sono ottime possibilità che il plesso pastore possa essere operativo. Già entro quest'anno, la mancanza di strutture adeguate per i bambini, ricorda la CISL, rappresenta un ostacolo significativo per molte donne, soprattutto per quelle che desiderano mantenere o reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la maternità. I dati parlano chiaro. Una donna su cinque in Italia è fuori dal mercato del lavoro. In pratica, dalle parti del comune, si dice, appare palese, che le finalità del nuovo bando intende perseguire risultano già raggiunte con la riqualificazione e la realizzazione delle quattro strutture indicate. Insomma, una polemica che speriamo possa risolversi da una parte soltanto da soddisfare le esigenze delle donne e delle famiglie interessate.